Il consigliere comunale di opposizione dei Cinque Stelle di Arco, Giovanni Rullo, si è dimesso oggi dalla Commissione Piano Urbano della Mobilità. Dopo 1468 giorni, la viabilità sperimentale del centro di Arco è ancora la stessa e questo ha esasperato non solo i cittadini, che loro malgrado devono percorrere la tortuosa deviazione del traffico, ma anche il consigliere comunale Pentastellato. Con oggi ho ufficialmente dato le mie dimissioni dalla Commissione PUM, perché nonostante praticamente in due anni abbiamo responsabilmente deciso di rimanere all'interno, nonostante sappiamo benissimo che aveva solo un carattere consultivo, propositivo e nessun tipo di iniziativa decisionale, poi è sempre la maggioranza a decidere, questo deve essere chiaro ai cittadini, comunque abbiamo portato responsabilmente le nostre idee. Fatto sta che anche su semplicissime proposte fatte, che non richiedono tempi lunghi in un'amministrazione normale, parlo di regolamentare diversamente dei divieti di sosta, come regolamentare un divieto di accesso in via della Crosetta, che secondo noi deve essere ciclopedonalizzata per renderla più sicura per pedoni e biciclette, oggi rappresenta un rischio. Anche su semplicissime cose, passati mesi e mesi, non c'è stato nessun tipo di iniziativa e azione concreta da parte del Presidente della Commissione, del Vice Sindaco, per cui a questo punto risulta totalmente inutile una nostra presenza e con questo noi da oggi ufficialmente non facciamo più parte e non collaboriamo più, ha sostanzialmente una sorta di presa in giro che secondo noi non ha più senso. Fatto sta che la viabilità nel centro di Arco è abbastanza confusa, con il rondò di via Roma ancora in fase sperimentale e ultimamente il senso unico in via Pomerio. Esattamente, questa amministrazione aveva puntato moltissimo sulla questione PUM, sono passati tre anni, nulla è stato fatto per ovviare le difficoltà sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo responsabilmente portato una nostra visione, che è una sorta di via di mezzo tra chi vuole tornare al passato e chi vuole in modo miope continuare su una strada intrapresa, secondo noi esistono le possibilità, ci abbiamo creduto, ad oggi non c'è stato nessun tipo di iniziativa, sono passati tre anni, sono troppi, obiettivamente noi ci tiriamo fuori. Su via Pomerio abbiamo responsabilmente deciso insieme che la soluzione poteva essere una semplicissima rotonda, in via sperimentale la si fa in pochissimo, a Sarca ad esempio con dei birilli è stata realizzata, ci sono i tempi burocratici ma non ci possono volere 5-6 mesi per realizzare un'opera così semplice. Questa risolverebbe le giuste lamentari dei cittadini che oggi devono fare una serie di giri assurdi per riuscire a entrare nelle loro abitazioni. Il senso unico può avere un senso ma deve essere data una risposta ai cittadini che ovviamente non possono fare giri dell'oca per arrivare alle proprie abitazioni.